Secondo posto alla fine della prima tappa dello special basket torneo nazionale del centro-sud per l'orizzonte Gela, appuntamento a Montalto di Castro. La compagine gelese era formata da Salvatore Morello, Mario Pizzardi, Armando Ciacia, Francesco Manmano, Graziano Bennici, Mario Palmeri, Emanuele Barone, Salvatore Capizzello e Nuccio Samà. Gli atleti sono stati guidati da Gianfranco Cassarino, Silvana Palumbo e Laura Salucci. Anche questa volta l'impegno dei ragazzi nel basket ha portato un risultato nella prima tappa perché abbiamo anche una seconda tappa e finale che sarà all'Aquila. Siamo stati a Montalto di Castro con una squadra di tutto il rilievo, una squadra che tutto l'anno si è allenato ma soprattutto con ragazzini che il basket era la prima volta. Pensate che viene un ragazzo nostro di vittoria ad allenarsi ed è titolare nella nostra squadra. Questo sta a significare l'importanza dello sport per i ragazzi con disabilità. Adesso il 7 maggio saremo all'Aquila per la finale. È una bella esperienza anche perché porta a una maggiore autonomia i ragazzi perché vengono da soli e questo porta a una migliore gestione della persona. Ecco, il 7 maggio ci sarà poi la gara conclusiva. È chiaro che voi punterete al primo posto. Beh, questo sicuramente noi siamo fedeli al motto di Special Olympics che io possa vincere ma se non riuscisse che possa tentare con tutte le forze. E questo è lo spirito di Special Olympics e lo spirito dei nostri atleti. Noi siamo per la prima volta in un torneo di centro-sud che normalmente andiamo al nord dove da anni è strutturato lo Special Basket e abbiamo voluto dare una mano agli organizzatori perché noi già da anni facciamo queste attività sportive. Io sono andato lì con una squadra di terzo livello proprio per far fare esperienza ai ragazzi e non per andare a vincere. Noi abbiamo incontrato squadre di livello un po' superiore e si sono battute con tutte le forze. Siamo attualmente al secondo posto e ora vediamo la seconda tappa e come andrà a finire.